ciao a tutti amici bentornati su gates of end oggi è un network assieme al nostro caro amico matteo buonasera e oggi abbiamo sentito che c'è una nuova modalità pronta per farci bestemmiare tutti i santi ovvero the last stand che non conosciamo niente non sappiamo niente un ex esplome pieno perfetto ad last stand quindi è una modalità dove credo dobbiamo difendere una posizione centrale contro questi nemici che ci romperanno da tutte le parti da tutte le parti qui non è che decisai almeno nella modalità conquista di arrivino da x no 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 da tutte le parti così non è che bestemmi contro una zona contro tutti è fantastico noi dobbiamo proteggere questo quadrante quale l'auto vuoi io vado a sud vado a sud vado ma domani questa è la piazza questa è la piazza di coso di world at work cazzo sono proprio moda non arrivassi ancora non ho finito quats ah se cattoli quella posizione ci danno altri bondi un madonna è un macello credo che sia per molte più persone sono ma noi un mondo fruto aiuto non mi sa che veramente e quattro persone almeno Oh ma stanno a fare come? Cremato alle spalle Vai cannone Eh vabbè Non posso c'è la panteria nemica addosso No io c'ho il cannone Anticarro Ah boi ah Che se vuoi Che granata che me l'ho lasciato Oh ma perché Non si vedono qui nemici una volta non faceva Cararmato distrutto Eh? E chi è quello? Sei tu? Sì sì sono io Chi è que? Il pazzo è maraviglioso Come la seconda è andata arriva E ancora devo preparare No Lo faccio? Lo faccio? Per i mini ti vox su me Lo faccio eh Non mi pende Ecco la Porca puccazze Che cosa? Ma come in kv1? Ma io ho pack 36 che faccio? Che faccio? Che faccio io con questo? oh non è tutto preso ma perchè usa gli h sei pazzo? sei caduto con la testa? appunto quindi colpi per se? no è morto beh in teoria con il pandefoss lo rompi il problema è arrivarci laggiù non c'è la strada ragazzi Mimiti Bonkustroom andate ti credo no è assurdo cioè il mio cannone non prende il gaz ma il gaz prende il cannone è un massacro da cosa... da cosa non denote ma io stavo guidando... no ma chi è questo? oh ma che fai kv1 perchè no? perchè il mio soldato non va? aspetta un attimo addio come non è morto? io ho rotto il cingolo che adesso ma te ma io ho usato il coso il panza è scelto il dito di lui bene bene non mica mi stanno a sparare il carro armato è ancora vivo il kv1 sì c'è ancora gente dentro non più non più ricarico ma dov'è sto gaz scusi? allontanarsi no che cos'è? no che cos'è? è lontanarsi dal fumo no è lontanarsi dal fumo meglio arriva 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 mi sembra gli ingegneri non si capisce niente io gli faccio niente a sto carro ok poi c'è anche un Panzer, un Panzer T che cos'è questo carro qui arriva? madonna ragazzi la bevo presa arriva il bombardamento dove? segnale rosso guarda dobbiamo fai entrare altri due giocatori aspetta aspetta a me aspetta a me non ci arrenderemo mai bella scelta posso venga a armare? no fai schifo è buono a tutto qua allontanarsi dal fumo rosso eh eh ah ma si come? sei falso via vabbè tutti qui sono troppo inutile vabbè alcuni di me vogliono rimanere là madonna madonna ma posso uscire non ci arriva sto lanciafiamme ma infatti è immortale mi fa a me sami io vi faccio ah il mio che è il mio scavario il mio scavario armato ah e me non ci sono più oddio ma quello non c'era prima questo scavario armato ma questo non c'era prima questo scavario armato ma guarda quello ma questo scavario armato ma che è mazzatelo 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 ovvio nooo si non lo danneggiato e va bene niente va bene ragazzi ragazzi avete visto questo video se vi sia piaciuto mettete un mi piace commentate e noi ci vediamo sul prossimo video